Andiamo a fare una piccola passeggiata nel paese. Eccoci qui a Barracuda Beach, chiamata così perché in questa spiaggia c'è il Barracuda Resort. La spiaggia è simile a Watamu Beach, ma è più piccola e raccolta. Io la preferisco all'altra solo quando c'è l'alta marea perché ci sono meno alghe e rimane una bella lingua di sabbia compatta. Anche qui con la bassa marea si può camminare fino alla barriera corallina e nelle piscine naturali che si formano si possono vedere stelle marine e addirittura murene. Fate attenzione alle dita! Andiamo a pescare, perché no? Andiamo a pescare, pesa 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 buono! Qui ci si prova a pescare ma non c'è una minchia! Non abbiamo pescato un cazzo! Andiamo al negozio di pesce a comprare il pesce! Questa è la nostra povera preda di oggi! Ci mangiamo il pesce pappagallo oggi, vediamo com'è! Cosa sta facendo? Sta scalpellando la cucina? No, sta tagliando la capoccia del pesce che tra poco faremo sulla griglia La griglia e il pesce a tranci Dei cani che aspettano di mangiare qualche rimasuglio Tutto ok Qualcosa è già pronto Tiè Che cazzo so? Bistecche Abbiamo imbandito la tavola con tutte le bevande Tanto per cambiare le patate Le patate Stavolta patate lesse Sta per arrivare il pesce Dobbiamo ancora cominciare a mangiare Ma ci sentiamo un po' osservati Dei cani Hanno fame Dove vai? Dove vai? E la cena è servita Un applauso a Oliver Bravo Oliver Com'è? Buono Pesce Pesce a bollo Si è abbandonato le corchette Vabbè, qua si mangia con le mani Questa cena è stata gentilmente offerta da Birra Tasker Questa cena è stata gentilmente offerta da